Un panino farcito, un kebab oppure un cheeseburger, queste sì erano prenotazioni che arrivavano ad una paninoteca di Foiano della Chiana, però chi chiamava voleva una droga oppure un'altra. Così, nell'operazione Tornado dei Carabinieri di Cortona, è finito il titolare del locale LA di Sinalunga, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta però di uno degli ultimi anelli della catena, un sistema di spaccio collaudato che operava per rifornire il mercato dei comuni della Val di Chiana, Aretina e Senesi e le richieste dei più giovani. I Carabinieri che hanno agito insieme al nucleo Cinofili di Firenze hanno individuato l'attività di spaccio nei comuni di Foiano della Chiana, Marciano, Castiglion, Fiorentino e Monte San Savino. L'operazione Tornado sia così conclusa portando all'arresto in flagranza di reato di tre persone, un 42enne di Foiano della Chiana, DF le sue iniziali, ML di 28 anni di Torrita di Siena e LL 26enne, nato a Sinalunga ma residente a Foiano. Nelle abitazioni dei tre arrestati sono stati trovati numerosi grammi di droga, hashish, marijuana, tracce di cocaina, semi di canapa indiana e perfino pasticche di morfina. Poi sono stati sequestrati gli attrezzi del mestiere per confezionare le dosi da spacciare come bilancini di precisione, cucchiai, coltellini, grinder per triturare l'erba. In un'abitazione di Foiano ritrovata anche una pianta di marijuana e il kit per la coltivazione. Oltre ai tre arresti sono scattate ben 63 denunce in stato di libertà, di cui 9 a carico di cittadini stranieri, ma anche di 6 minori di nazionalità italiana, albanese e rumena. L'operazione ha permesso di segnalare 9 persone come assuntori. Due le misure cautelari di obbligo di presentarsi alla polizia, giudiziare ogni giorno e di dimora a Foiano della Chiana, sono state messe nei confronti del titolare della paninoteca e di un 44enne nato a Torre Annunziata, residente a Foiano.